In anteprima su Arezzo TV la scuola basket Arezzo ha presentato le novità della prossima stagione, soprattutto i lavori di riqualificazione iniziati al Palasport Extra Mario D'Agata. Dall'alimentazione con i pannelli solari all'area verde, dove da giugno partiranno gli sport camp per i bambini, per passare alle varie migliorie che sono state progettate dal presidente Mauro Castelli. La trasmissione realizzata proprio all'interno del Palasport Extra Mario D'Agata avrà ospite tutta la SBA e l'assessore allo sport Lucia Danti. Andrà in onda in prima serata su Arezzo TV martedì prossimo. Intanto una piccola anticipazione. Una buona sinergia fatta fra aziende del territorio, anche se poi non è più del territorio, insomma è abbastanza vasta come Extra. Il pubblico e il privato si unisce, diciamo, e in questo caso la nostra società sportiva ha creato questa idea di partecipare a un bando comunale per l'assegnazione di questo Palasport. Credo che al di là della parte sportiva, che poi ne parlerete, credo che la nostra società ha fatto veramente un grande sforzo. Ovviamente non avremmo fatto niente.